Professore Rodotà. Fa parte della retorica dei convegni dire che si è onorati dell'invito ricevuto, ma io stamattina ricorro molto volentieri a questa retorica e dico che mi sento onorato a doppio titolo. Da una parte come cittadino, perché frequentando un po' in giro per il mondo la riflessione che si svolge su internet o intorno a internet, il bisogno di avere un luogo dove anche in Italia si potesse, con il concorso di competenze diverse, sensibilità, storie particolari, fare questo tipo di riflessione mi pare un passaggio dal punto di vista civile di enorme importanza. Aveva ragione il rettore quando ci ricordava, io semplifico e brutalizzo un po' il tema, senza buona cultura non c'è buona politica e su questo terreno in Italia abbiamo un enorme bisogno di buona cultura. Pensate al modo in cui in questi giorni si è riflettuto, si è utilizzato il riferimento a Obama e al suo modo di utilizzare internet. La seconda ragione di gratitudine è molto soggettiva, cioè avere chiesto stamattina a un vecchio soldato come me di questa vicenda di essere qui, ci potevano essere molte altre persone più giovani, ma io sono molto contento che mi sia stato chiesto e proverò a dirvi alcune di quelle che sono, come dire, le strade o i temi o le questioni sulle quali, tra le tante, perché Juan Carlos De Martin ha già tracciato un percorso molto ben delineato e visibile, quali sono tematiche che indubbiamente il centro Nexa non potrà evitare. Ora, noi sappiamo tutti che internet è al tempo stesso una descrizione realistica e la grande metafora del mondo globale. è anche però il luogo dove si è costruita ed esaltata la contrapposizione tra reale e virtuale che è stata per lungo tempo vissuta e in parte continua a essere vissuta come l'esistenza di due mondi distinti, come la creazione di un mondo di opportunità che si sottraeva ai limiti e ai condizionamenti del mondo reale. Da qui la rappresentazione di internet come un luogo non solo di utopie libertarie, ma di una libertà realizzata da tenere al riparo da ogni ingerenza esterna. Un luogo nel quale ci si liberava non solo dei condizionamenti fisici, non solo di quelli di cui abbiamo tante volte parlato e di cui sperimentiamo l'effettività ogni giorno, cioè i limiti del tempo e dello spazio, quasi fluttuando in una dimensione come quella degli astronauti. Ormai eravamo liberi da tutte le leggi della gravità che ci avevano appesantito nella ricerca, nei rapporti personali, nella frequentazione del mondo fino a ieri. Ma pure dai condizionamenti del corpo, da quella prigione della carne, nella quale in ogni momento temeva di ricadere il protagonista di Neuromante di William Gibson. La vita sullo schermo, il titolo di un libro di una studiosa americana, Sherry Tarkle, era poi la rappresentazione nelle parole di questa nuova condizione, che era anche una condizione umana. E da qui l'affermazione, da questo punto di vista ovvio, giù le mani da internet, che ci ha accompagnati e ci accompagna ancora con un invito che ricorda molto, per chi ha dimestichezza un po' anche con la storia passata del pensiero, che ricorda gli inviti a non corrompere la natura. E faccio questo riferimento non forzando i termini della questione, perché in uno dei documenti che hanno accompagnato questa evoluzione velocissima di internet, ce n'è uno, quello di cui ancora si discute, quella dichiarazione di indipendenza del ciberspazio di John Perry Barlow, dove si dice che il ciberspazio è un atto di natura. C'è questa consapevolezza che c'era una natura nuova che doveva rimanere incontaminata, così come nelle utopie settecentesche, per esempio, doveva rimanere incontaminata la natura. Ma internet, e quindi diceva John Perry Barlow in questa dichiarazione di indipendenza del ciberspazio, che se non ricordo male cominciava con le parole governi del mondo, non dovete entrare in questo spazio. Ma progressivamente internet è penetrata nella società, ha contagiato addirittura il linguaggio che descrive la politica. Io potrei fare un lunghissimo elenco di titoli, di libri o di saggi, di studiosi della politica che ormai sono prigionieri della metafora di internet. Il più noto di tutti, anche tradotto in italiano, non nella sua ultima versione, un libro di un studioso, nasce come costituzionalista, un professore di Harvard che si chiama Cass Sanstini, il libro è Repubblica.com, adesso l'ha già aggiornato, e la nuova edizione è Repubblica.com 2.0, perché qui l'obbligo di riflessione è stimolato dall'innovazione tecnologica. Ma c'è una fila enorme di titoli, quindi già il linguaggio per la descrizione della politica è ormai tributario direttamente di internet. Ha rotto le barriere tra reale e virtuale, però attenzione, ormai il modo in cui internet è penetrata nella società, ha variamente strutturato le organizzazioni sociali e in realtà così si è determinato un continuum tra virtuale e reale, con un coinvolgimento progressivo e continuo di milioni di persone, sì che oggi internet non è altro da ciò che è la nostra vita di ogni giorno, il modo in cui le organizzazioni sociali vivono e si strutturano, ma è anche uno specchio spesso impietoso delle tensioni e delle contraddizioni sociali. Per questo io credo che sia necessaria una riflessione istituzionalizzata, nel senso che servono istituzioni come il Centro NEX in Italia per svolgere questo tipo di analisi. E come svolgerle queste analisi? Non mi metto certamente a dettare una precettistica, io però vorrei ricordare, per esempio, che faccio evito i riferimenti, ma è stato usato per molto tempo al centro delle riflessioni, c'erano quelle di Nicholas Luhmann sulla complessità. Luhmann diceva che la tecnologia aiuta a ridurre la complessità. Pensando a Internet, che non c'era quando Luhmann svolgeva questo tipo di riflessioni, in realtà io direi piuttosto che la tecnologia che ha poi generato Internet non tanto ha reso più trasparente la società, che è una questione importante ed è uno dei grandi temi di riflessione, ma l'ha resa più leggibile da parte dei singoli, che è cosa diversa dalla trasparenza, è la possibilità, anche il potere di leggere la società. Non è che la società è di per sé trasparente, la società è più leggibile, e infatti non è auto-evidente ciò che è la società, può essere letta in modo più completo nei suoi nessi, nelle sue complessità, attraverso strumenti che però richiedono una elaborazione, una strutturazione, un coinvolgimento di una molteplicità di soggetti. Oggi non direi che Internet comincia a essere vittima del suo successo, ma certamente io condivido molto una cosa che ha scritto qualche tempo fa Juan Carlos de Martín, c'è una convergenza tra culture diverse, perché ha parlato di una Costituzione di Internet che veniva messa in discussione. Ora i giuristi sanno benissimo, scusate per un momento la caduta in tutto questo, che accanto alla Costituzione formale, cioè alle regole più o meno scritte, c'è una Costituzione materiale, cioè sono i dati di realtà attraverso le quali una struttura viene governata. Ora ci sono, una di queste regole della Costituzione di Internet, lo ricordava Juan Carlos poco fa, è la neutralità della rete. Nel momento in cui, per ragioni diverse, dobbiamo finanziare l'ulteriore sviluppo tecnologico, abbiamo bisogno di effettuare filtraggi, si mette in discussione la neutralità di Internet, si opera una modifica costituzionale in maniera, se mi permettete di usare questo aggettivo, autoritaria, in un mondo che invece dell'anti-autoritarismo ha addirittura fatto non un programma, ma un elemento costitutivo della sua natura. E dunque la domanda, chi deve essere consultato, chi deve avere la parola nel momento in cui la Costituzione materiale viene messa in discussione. Questo è uno dei primi nessi tra Internet e società. Il nesso fondativo, quando viene messa in discussione, anche oggetto di un libro discutibile, ma interessante, sul futuro di Internet, la sua capacità generativa, e questo è un altro passaggio costituzionale sul quale noi dobbiamo riflettere perché la capacità trasformativa di Internet può essere non eliminata. Lo sappiamo per le caratteristiche proprie della dinamica che ci sono in questo settore, ma variamente orientata, non voglio usare altri termini. E insieme a tutto questo si è aperta una grande discussione se sia finita l'utopia rivoluzionaria che ha accompagnato Internet. Io condivido l'uso del termine rivoluzionario nelle varie accezioni e declinazioni che ne ha fatto Juan Carlos De Marti e ritengo quindi che sarebbe sbagliato abbandonare del tutto questo modo di guardare a Internet. È vero che una serie di scorciatoie che si pensava di poter percorrere utilizzando Internet si sono rivelate illusorie o impraticabili e quindi l'esperienza ci fa giustamente fare un bagno di realismo. E tuttavia io continuerei e poi soprattutto chi ha la mia età, lui diceva il cambiamento vissuto parlo di Juan Carlos figuriamoci uno della mia generazione. Insomma io quando ho cominciato ad andare a scuola non dico che si scriveva ancora con il pennino e il calamaio però insomma ecco nel momento stesso in cui avviamo questa riflessione si dice che abbiamo il primo presidente degli Stati Uniti eletto da Internet questo fenomeno Obama richiederà certamente una riflessione accurata che si sta già svolgendo e negli Stati Uniti già però il segno di un cambiamento profondo del rapporto tra politica e Internet con un cambiamento di paradigma molto forte faccio un riferimento alcuni anni fa quello che era un politico repubblicano emergente che si chiama Newt Gingrich che si candidò poi divenne anche lo speaker della Camera dei rappresentanti propose un suo programma il contratto con l'America che ha ispirato qualche nostro politico e uno dei punti del contratto con l'America era l'eliminazione del congresso che sarebbe stato sostituito da un congresso virtuale tutti i cittadini potevano accedere elettronicamente alla documentazione su ciascun tema contenuto nella biblioteca del congresso e avrebbero votato su qualsiasi questione ma date che questa non era una delle tante sciocchezze che venivano messe in circolazione perché ahimè dico aveva il sostegno culturale di uno degli studiosi che aveva accompagnato la riflessione su questi temi cioè Alvin Toffler quindi non era un'improvvisazione ma questo paradigma populista plebiscitario oltre che tecnologicamente assai complesso è stato abbandonato e sostituito da un altro paradigma che è appunto quello che Obama ha portato oggi a un grado di maturazione che non è certamente finale ma uno stadio di maturazione interessante che però per esempio già in occasione delle precedenti elezioni americane uno dei candidati alla candidatura democratica cioè Howard Dean aveva cominciato a utilizzare con una serie di di novità però questa volta perché quando Howard Dean sto parlando di quattro anni fa utilizzava questa sua il ricorso alle alle reti create attraverso internet non c'era youtube non c'era facebook che sono stati invece i network sociali ai quali Obama si è rivolto era diventato uno strumento di mobilitazione è stato uno strumento forte di finanziamento il 67% delle risorse finanziarie riaccolte da Obama vengono attraverso internet che è un cambiamento enorme perché può non dico eliminare ma allentare la dipendenza del candidato dal big business questo è un passaggio storicamente importantissimo nel momento in cui la politica è sempre più dipendente e le cifre e gli investimenti necessari per far politica crescono per far sì che anche non ci sia l'ascissione tra chi finanzia e chi in qualche modo partecipa ci sia di nuovo la congiunzione tra questi due dati che era stato scardinato dall'enorme crescita dei costi della politica questo è un passaggio di enorme importanza che va sul quale bisogna riflettere sul quale bisogna anche trovare le soluzioni istituzionali adeguate ma c'è molto di più perché questo era il modello Dean in realtà Obama a mio giudizio ma ripeto parlo con un po' di prudenza perché in queste materie le analisi approfondite richiedono tempo Dean ha fatto qualcosa di più perché questa era una mia convinzione era un'analisi che non era difficile da fare nel momento in cui si passava all'internet 2.0 cioè al social networking in realtà nasceva una nuova sfera pubblica diversa dalla sfera pubblica tradizionale che era quella nella quale si rifletteva la politica tradizionale un modo di organizzazione sociale nasceva una sfera pubblica diversa prima identificata con la blog sfera poi identificata con il social networking in senso proprio youtube my face facebook e via dicendo una sfera pubblica che tendenzialmente non solo si distingueva ma si incontrapponeva alla sfera pubblica tradizionale essendo il luogo dove appunto si poteva esercitare in modo nuovo la costruzione delle relazioni sociali il punto importante poi lo analizzeremo nei dettagli del cambiamento o del modo in cui Obama ha utilizzato questa opportunità è che ha fatto ha determinato un canale di comunicazione tra queste due sfere pubbliche sembrava che la sfera pubblica nuova delegittimasse completamente la sfera pubblica tradizionale una delle analisi una delle preoccupazioni era sarà un disincentivo a partecipare alla politica perché ci si realizzerà completamente nel social networking reso possibile da questa nuova evoluzione dell'internet 2.0 l'intuizione di Obama o diciamo la verità il fatto di cogliere come l'insieme delle relazioni determinate dalle tecnologie si sviluppano è stato invece di non ritenere di nuovo che ci fosse una separazione questa volta non tra reale e virtuale ma la sfera del social networking e la sfera tradizionale della politica e dire che questa nuova dimensione reagiva e cambiava la sfera pubblica tradizionale qui mi pare che ci sia il motivo di riflessione un motivo di riflessione molto importante sul quale poi anche si gioca un'altra partita perché quelli che sono vecchi come me sanno che si è stati per lungo tempo come dire abbacinati o notizzati dal discorso democrazia diretta democrazia rappresentativa internet le tecnologie elettroniche ci faranno entrare nell'agoratenese finalmente ricostruito nella modernità era un modo sbagliato di impostare la questione oggi vediamo che le cose hanno un altro modo di presentazione e di individuare il rapporto tra presenza diretta partecipazione e carattere rappresentativo della politica e tuttavia in questo momento proprio se riflettiamo sulla celebrazione tecnologica di Obama anche con qualche inevitabile enfasi in questo momento cogliamo anche una schizofrenia e cioè che mentre si celebra internet come lo spazio nuovo della libertà democratica internet rischia concretamente di diventare un luogo prigioniero di logiche di pura sicurezza e di puro mercato questo è un altro terreno di analisi molto importante sul quale noi non dobbiamo arretrare non era difficile fare questo tipo di previsione guardando una previsione che già era possibile fare ed era stata fatta da qualcuno anni fa e che evidentemente diventa terreno più stringente più difficile alla luce degli ultimi sviluppi c'è un il problema del mercato ci intendiamo subito se io indico alcune questioni primo l'accesso alla conoscenza disponibile in rete questo è un grande tema non voglio ripetere qui una formula che tante volte ho adoperato che viene da uno studioso non marxista un signore che si chiama Theodor Levy e che è uno studioso dei sistemi politici un americano che è stato uno tra i primi che ha riflettuto sto parlando gli anni seconda metà degli anni settanta su questi temi guardava la tecnologia e metteva in guardia da alcuni rischi con questa frase attenzione la tecnologia apre le porte il capitale le chiude questa può essere una descrizione molto brutale però abbastanza realistica perché se noi pensiamo al fatto che Yahoo dice al governo cinese il giornalista che ha mandato questa notizia è questo questo signore viene arrestato e condannato a dieci anni di carcere e Yahoo si difende dicendo ma io devo stare sul mercato cinese ecco la tecnologia apre le porte alla libertà e il capitale le chiude in questo caso quando Google dice attenzione io non permetterò da oggi in poi che alcune immagini perfino quelle delle donne e delle madri che allattano vadano su YouTube e beh anche qui c'è una ragione e cioè io devo creare uno spazio quello spazio che è configurato da questi grandi internet providers come uno spazio pacificato e quindi al riparo da quelle che possono essere le pretesse degli stati e il turbamento che può venire a colui il quale va in rete ed è visto solo come un consumatore di essere turbato da un'immagine o da un'opinione dissenziente quindi eliminiamo tutto e sia internet il grande spazio pubblico dove però è l'attitudine al consumo quella che deve essere in primo luogo salvaguardata sicché nessuno debba essere distratto turbato nel momento in cui fa questo tipo di attività questo è un grande problema non c'è dubbio perché c'è un punto critico intorno al quale la riflessione deve essere svolta e badate che l'idea è la la spinta a filtrare oggi è molto forte anche in paesi che non hanno perché certo noi possiamo fare un elenco molto lungo di paesi con successi minori o maggiori confrontandosi sempre con la forza interna di internet come una forza che contrasta e Ancona è in grado di contrastare questo tipo di pretese però c'è un'operazione continua censoria io uso questa vecchia parola ma anche in un paese dove non c'è nessuna pulsione autoritaria dove anzi le ultime elezioni sono state vinte diciamo da partito di sinistra cioè l'Australia si sta investendo in questo momento una somma molto elevata per mettere a punto strumenti di filtraggio in questo settore e quindi questo è un altro grande tema che noi dobbiamo affrontare nell'analisi dei rapporti tra internet e società c'è il problema quando voi facciamoci una domanda molto banale quando voi andate su google digitate alcune parole arriva la risposta e trovate uno dieci su tre milioni quattrocentocinquanta perché quelli sono al primo al posto uno dieci che ci sarà al posto tre milioni quattrocento dieci sappiamo che c'è tutta una serie di criteri attraverso i quali questa selezione viene effettuata il problema che possano essere ragioni di mercato a indurre o altre ragioni a indurre una selezione che quindi in qualche modo falsifica la neutralità della rete e il carattere imparziale del mediatore perché è chiaro una delle tante altre ipotesi della storia dell'arrivo dell'elettronica la fine dei mediatori sociali è vero una serie di mediatori sociali sono stati cancellati come i venditori di ghiaccio di cui ci parlava Juan Carlos ma oggi abbiamo nuovi mediatori se non ci fossero i grandi Google o Yahoo o Microsoft noi non saremmo in grado di orientarci e di utilizzare l'enorme patrimonio di conoscenza in rete quindi sono nati nuovi mediatori che sono coloro i quali governano io adesso parlo in maniera brutale ed estrema governano il mondo in qualche modo e io faccio un solo esempio certo nel momento in cui determina le regole di accesso a YouTube esclude o non esclude qualcuno da MyFace c'è un deputato della Lega che protesta dicendo perché sono stato cacciato via da MyFace quello è uno strumento di comunicazione perché perché mi ha cacciato via il gestore di questo strumento ecco problema di Google Google in questo momento c'è uscito riprendendo una serie di ricerche che già erano state fatte da parte di uno che è uno studioso molto attento che si chiama Jeffrey Rosen un americano che ha scritto anche un libro molto bello sulla privacy lo sguardo indesiderato ha messo insieme una serie di dati dicendo che a Mountain View lì vicino San Francisco che poi si prendono decisioni che riguardano il mondo se il governo turco il governo tailandese dice bisogna levare da YouTube questo filmato perché parla per esempio del re di Thailandia in un modo che non è conforme alla nostra cultura e Google lo fa in qualche modo governa il mondo governa la circolazione delle informazioni governa il modo in cui si forma la sfera pubblica governa il modo in cui ci si confronta su questo terreno e questo è un grande problema tant'è che alcuni parlamentari americani hanno io ne ho incontrato uno l'altra settimana a Bruxelles e l'hanno proposto quella che hanno chiamato il Global Online Freedom Act che è un'espressione poi sono andate a leggere l'espressione molto enfatica perché dice semplicemente che i coloro i quali fanno questo avolo di filtraggio in rete su richiesta degli stati devono riferire a una commissione speciale presso il Dipartimento di Stato cioè il Ministero degli Esteri americano è dubbio che questa proposta di legge possa andare avanti però mostra la sensibilità perlomeno questi soggetti che operano il filtraggio devono farlo poi a un certo punto in una sede trasparente e tutti debbono sapere che Google per esempio ha accettato le richieste del governo turco e non ha accettato altri tipi di richieste per esempio in Italia abbastanza singolare che negli stessi giorni in cui si chiedeva l'eliminazione dei gruppi di amici dei mafiosi o sia su Facebook sia alcune filmatiche erano reperibili su Youtube Google dicesse che non lo poteva fare nello stesso momento in cui diceva invece che dovevano essere eliminate le immagini delle madri che allattano quindi il criterio diventa estremamente difficile da seguire e pone quest'altro problema chi governa il mondo perché in questo momento io enfatizzo evidentemente chi ha il potere di governo di questi snodi essenziali di internet ha un potere di governo di cui sono anche consapevoli perché Google per esempio si fa parallelamente banditore di una campagna anche con qualche proposta intelligente di codici di regole per rendere possibile la libertà di espressione in rete anche come strumento di autodifesa se io ho questo tipo di codice di comportamento potrò resistere alle pressioni di qualche soggetto di qualche stato che vuole che io infranga questo tipo di codice ma nello stesso tempo c'è un problema si può lasciare soltanto a soggetti privati che evidentemente pongono regole che non possono essere poi in contrasto radicalmente con i loro interessi il potere di fare la regola o noi non dobbiamo interrogarci su un altro modo in cui la rete produce le regole che consentano non solo di mantenere ferma la sua costituzione materiale d'origine ma di farne un luogo dove nuovi e vecchi diritti possono essere tutelati questo è un altro tema c'è il tema poi quello che io chiamo il catastrofismo tecnologico però politicamente orientato il catastrofismo tecnologico è una vecchia storia il luddismo è una forma di catastrofismo tecnologico dobbiamo distruggere le macchine e badate che negli anni 70 c'è stato anche un piccolo luddismo c'era un signore che si chiamava Henry Matusov che aveva costituito una società che un gruppo di pressione che non mi ricordo bene come si chiamasse che manifestava a New York davanti alla sede dell'IBM con cartelli i computer sono osceni e cioè chiedeva è questo luddismo oggi è questo il catastrofismo questo l'uso della tecnologia produrrà effetti sociali catastrofici ma oggi c'è un altro catastrofismo politicamente orientato che va nella direzione esattamente opposta usiamo al massimo la tecnologia in che senso internet è il luogo dove per esempio si manifesta una possibile attività eversiva dove i terroristi fanno la loro o coloro i quali professano ideologie razziste discriminatorie usano di tutte le opportunità messe a loro disposizione e allora usiamo tutti gli strumenti tecnologici possibili per bloccare questo tipo di attività quindi c'è una versione del catastrofismo tecnologico che però non va nella direzione impossibile poi in questo caso eliminiamo lo strumento attraverso il quale la catastrofe sarebbe proposta ma invece tende a incentivare l'uso sempre più massiccio di queste tecnologie per trasformarle in strumenti di controllo credo che la rappresentazione più netta e poi concludo rapidamente si abbia considerando il modo in cui attraverso documenti dell'Unione Europea viene rappresentato il passaggio sia verso l'internet 3.0 cioè il cosiddetto internet delle cose da un documento si può leggere questo c'è prima una documento dell'Unione Europea è accompagnato da un rapporto di un gruppo di studio prima si riflette piuttosto sul passato ogni oggetto usato dalle persone ogni transazione compiuta e quasi ogni suo atto volontario possono creare un record digitale che genererà una quantità di informazioni importanti per le strutture della sicurezza pubblica rendendo il loro intervento più efficace ma la parte più interessante è la seconda nel futuro prossimo molti oggetti genereranno un flusso di dati digitali che rivelano comportamenti modi di essere interessanti per la sicurezza pubblica che possono essere utilizzati per prevenire o investigare su fatti ritenuti possibilmente pericolosi dal punto di vista sociale è quello che è stato chiamato il prossimo digital tsunami cioè questo flusso enorme di informazioni la cui lettura come vedete non è quella catastrofistica di dire allora eliminiamola no volgiamo questa enorme opportunità offerta poi anche dall'internet degli oggetti per aumentare il carattere di società della sorveglianza delle nostre organizzazioni sociali e quindi c'è una sorta di delega finale alla tecnologia in funzione di controllo questo è un altro tema che va obiettivamente affrontato c'è per esempio una lettura critica fatta di questo digital tsunami e di questi documenti della Unione Europea da un'organizzazione per i diritti civili inglesi che si chiama Statewatch in un documento che si chiama The Shape of Things to Come che riprende il titolo di un libro di un famoso futurologo che era Wells che scrisse nel 1933 Allora noi dobbiamo e concludo guardando queste novità straordinarie l'internet 2.0 con il social networking l'internet 3.0 con l'internet delle cose sfruttare fino in fondo perché le opportunità rivoluzionarie rimangono tutte anzi vengono grandemente incentivate e tuttavia il web 2.0 con il social networking amplifica in modo straordinario una lettura che già era stata fatta di internet world of conversation il luogo di una conversazione ininterrotta dove tutti hanno la possibilità di consultare di confrontarsi continuamente di scegliere costruire relazioni sociali modificando però nello stesso tempo per esempio la nozione stessa di privacy nel momento in cui io liberamente metto su facebook un'enorme quantità di informazioni a quel punto l'idea tradizionale di tutela della sfera privata è abbandonata perché sono io che mi espongo c'è il passaggio usando una terminologia che si usa in francia dall'intimité all'extimité dall'intimité all'esposizione Andy Warhol diceva che ognuno di noi dovrebbe avere diritto a 15 minuti di notorietà nella propria vita facebook come dire in qualche modo realizza questa permanente notorietà che c'è alcuno di noi sceglie anche con inquietudine io non sono non mi sono iscritto a facebook però ho scoperto che alcune persone pubbliche vengono messe lì e c'è la distinzione tra amici e fan io vedo il numero dei fan dei miei fan oddio crescere e questo pone però un problema perché qualcuno potrebbe tracciare un mio profilo sulla base dei fan che aderiscono senza che io li conosca senza che io abbia la possibilità di controllare il loro accesso e si materializzano con nome cognome foto su facebook che succede a questo punto della profilazione delle persone e la profilazione delle persone quando c'è si vive in un mondo di oggetti quando ci si avvicina non posso esaminare tutti i punti all'autonomic computing cioè a questa costruzione di reti di computer che vengono come dire costruite mimando prendendo a modello il sistema il sistema nervoso delle persone e servono per costruire identità profili e poi sulla base probabilistica dire il tuo comportamento sarà questo o dovrà essere questo questa è un'altra frontiera sulla quale noi dobbiamo certamente lavorare perché sfera pubblica e sfera privata cambiano natura e per esempio rimanendo a Torino l'uso di youtube il caso delle molinette che ha creato tanto sconcetto dicendo vergogna queste cose non dovrebbero andare su youtube io rispondo in un modo molto semplice c'era una vecchia frase non si rompe il termometro per evitare di scoprire che qualcuno abbia la febbre ma dobbiamo certamente per carità mettere quelle immagini su youtube è cosa che provoca tutte le riprovazioni possibili ma ci rivela anche un modo in cui il rapporto tra il medico e il paziente tra l'infermiere e l'ammalato viene concretamente praticato allora c'è la rivelazione di un dato sociale di cui noi dobbiamo prendere atto e utilizzare positivamente se non ci fosse stato quel video non avremmo saputo che c'è un modo di comportarsi degli infermieri che certamente viola la dignità dei malati quindi le letture vanno fatte in maniera molto prudente e la trasparenza della società richiede una attenzione che non sia semplicemente quella di dire oscuriamo ci sono trasparenze forme di trasparenza che ci disturbano che ci disturbano certamente e che tuttavia dobbiamo vedere come rivelatrici di un certo modo della società e modo di essere alla società aggiungerei poi come penultima considerazione che tuttavia questo discorso sulla trasparenza deve essere nella prospettiva che sto considerando preso attentamente in considerazione perché c'è uno degli argomenti ed è se tu non hai nulla da nascondere perché ti devi preoccupare della raccolta delle informazioni che ti riguardano io ricordo sempre che questo è l'argomento tipico dei regimi totalitari che l'idea dell'uomo di vetro è un'idea nazista perché se tu si dice ma tu non hai nulla da nascondere ma nel momento in cui tu vuoi non nascondere qualcosa ma avere un tuo spazio minimo di intimità di qualcosa che non vuoi rivelare all'occhio del pubblico diventi un cattivo cittadino un nemico dello Stato e nei tuoi confronti può essere esercitata ogni forma di repressione autoritaria questa è la deriva che era evitata quando si usa anche come senso comune ma tanto che me ne importa raccolgano pure le mie informazioni ma io ho fatto parte per otto anni di una istituzione che si chiama Garante per la protezione dei dati personali e venivano decine centinaia di proteste di persone che dicevano ma com'è poi che io ricevo questo tipo di disturbo poi cose magari banali la pubblicità perché perché magari al supermercato per avere un piccolo gadget avevano firmato un modulo in cui avevano rivelato una serie di dati anche sensibili tante volte riguardanti propensioni cure mediche e via dicendo e poi tutto questo era finito come si dice nelle mani sbagliate quindi non c'è una innocenza in tutto questo ha ricordato giustamente concludo Juan Carlos il punto capitale gli interventi la consapevolezza culturale e la capacità di intervenire con strumenti diversi ha un punto critico c'è un grande antropologo che si chiama Marvin Harris che ha analizzato questo punto quando si passa da un equilibrio tecnologico all'altro c'è un punto critico superato il quale poi sarà estremamente difficile intervenire per incanalare nel modo che secondo certi canoni si ritiene più conforme al modo di organizzazione delle società lo sviluppo della tecnologia io non so a che punto siamo questo francamente non lo so dire credo che non lo possa dire nessuno ma questa consapevolezza la dobbiamo tenere presente anche perché in questo momento voi sapete che c'è un'analisi propria e giusta delle tecnologie che mette in evidenza come una serie di problemi siano generati e possano essere risolti attraverso lo stesso design della tecnologia che per esempio queste tecnologie hanno dei loro codici è stato Lawrence Lessig a studiarle fino in fondo e allora sembra che ci sia un'alternativa delegare al design al codice proprio delle tecnologie e lo sviluppo che poi è uno sviluppo non solo tecnologico e poi l'intervento della politica e del diritto avviene successivamente per cercare di regolare quello che è stato fatto alternativa intervenire già nella fase della progettazione tecnologica altrimenti sarebbe troppo tardi io penso che questa alternativa secca non corrisponda ai dati di fatto perché per esempio e chiudo con una banalizzazione di cui mi vergogno ma bisogna pure non tirarla troppo per le lunghe l'ho già fatto internet non è solo design sono soggetti interessi livelli plurimi di lavoro e credo che su questo sia proprio il luogo dove il centro NEX può dare i suoi contributi grazie Grazie.